Sabato alle 17.30 i Biancazzurri ospiteranno il Grosseto. Sarà la prima di Zauri sulla panchina del Pescara. In realtà si tratta di un ritorno a distanza di due anni dopo il divorzio nel gennaio 2020. L'arbitro del match Madonia della sezione di Palermo. Dopo tre partite torna Mirko Drudi che manca dall'ultima vittoria decisa proprio da un suo gol lo scorso 15 marzo in casa con il Cesena 1-0. Il verdetto finale fuori Rauti di Gennaro Chiarella, più no che sì Ijanes che accusa un problema al flessore. 4-3-2-1, 4-3-3 che dir si voglia, probabile 11, Sorrentino tre pali, Zappella Drudi in grosso e Frascatore in difesa. Forse Pontisso Play con Derisio e Pompetti interni. Insomma sarebbe più logico a limite Pompetti in cabina di regia. Staremo a vedere. Sono a tre quarti Clevezza e Dursi a supporto di Ferrari. In forte dubbio Ijanes. Il Grosseto di Maurizzi. Maurizzi ex Teramo subentrato a Magrini dalla seconda giornata del girono di ritorno. Ricordiamo anche il direttore generale, il direttore sportivo che è Emilio Capaldi ex Celano e Teramo abruzzese. Bene, il Grosseto è in fondo alla classifica. Soltanto 28 gol realizzati. Attacco più anemico del girone insieme con la fermana. 40 però le reti subite e la nona migliore difesa del girone. Con Maurizzi il Grosseto ha vinto soltanto tre partite. In totale appena 5 dall'inizio della stagione. Il probabile 11. Ricordiamo intanto l'assenza certa di Peretti. Un difensore è in forte dubbio Moscati, Boccardi e Scaffidi. 3-5-2 Barosi tra i pali. Si niega Ciolli e Gorelli nel cuore della difesa. Raimo e Semeraro sulle fasce. Rabiu che è arrivato a gennaio dal Modena. Un giovane molto interessante. Piccoli e Artioli sono le mezziali. Davanti Capanni e Nocciolini che sono i volti nuovi del mercato di gennaio. del club toscano. Ricordiamo sabato alle 17.30 Pescara Grosseto. Arbitro Madonia della sezione di Palermo.